Sarà l'aula del Consiglio regionale a custodire fino al 4 aprile la fiamma della torcia Special Olympics in occasione del passaggio in Abruzzo del Torch Run. La delegazione abruzzese degli atleti special guidata dal presidente di Special Olympics Abruzzo Guido Grecchi ha consegnato nelle mani di Sant'Angelo la torcia dei giochi di quest'anno che si svolgeranno a Torino nel mese di giugno. Attualmente ce ne abbiamo un 200 atleti però siamo ancora pochi quindi il messaggio è alle famiglie che hanno queste persone e che hanno una difficoltà anche motoria di accedere allo sport, di fare lo sport ma con delle agenzie organizzate perché solo in questo modo riusciremo a raggiungere l'inclusione sociale. Lo sport come volano di inclusione, per questo la regione sarà al fianco dei ragazzi impegnati nelle competizioni sostenendo il loro cammino sportivo. Il tour della torcia Special Olympics partito da Rimini, Gabicce e Mare farà sosta all'Aquila fino al 4 aprile per poi spostarsi il 5 a Pescara in Piazza Salotto ed infine il 6 aprile a Sulmona alla Rotonda San Francesco. Il messaggio che vogliamo lanciare è che attraverso lo sport si realizza la vera inclusione. Questi ragazzi sono magnifici, ogni volta non smettono di sorprenderci, quindi la nostra regione sarà a fianco di questo lungo cammino di inclusione di Special Olympics. La fiaccola sta girando tutte le regioni d'Italia per dare il via poi ai giochi che si terranno quest'estate nazionali di Special Olympics. Grazie a tutti.